Aspetta un secondo, attenzione che c'è Sebastian adesso lì, eh? Sebi, vieni qui da me per favore, vieni qua. Aspetta che c'è Sebastian, che non... Vieni, Sebi, vieni da me. Io dico, questo è il circo bidone. Il circo bidone, ok, vai. Questo è il circo bidone! Yuppie, bravissimo, very good.